ciao in questo video faremo la coppa di maiale cotta a bassa temperatura con una salsa barbecue quindi serve un bel pezzo di coppa di maiale della salsa barbecue e andiamo ad aspirare sacchetto sempre bello dritto preciso agganciamo e via adesso andiamo in cottura ecco il risultato bello sfilacciato e andiamo a impiattare questo è il nostro panino finito iscriviti al canale